Bella boys e benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi, faccio questa breve intro semplicemente per dirvi che io sarò al Milano Games Week da venerdì fino a domenica, quindi tre giorni di fila ragazzi, e potete trovarmi al padiglione numero 8 ragazzi. Inoltre vi volevo dire che venerdì 5, dalle 11 del mattino fino alle 4, io parteciperò all'evento, appunto un torneo di Fortnite al PG Arena. Questo ragazzi è un evento appunto community, è il primo evento ufficiale organizzato in Italia da Epic Games, quindi saremo noi content creator a giocare con voi fan che sarete appunto lì. Quindi ragazzi mi raccomando non mancate venerdì perché ci divertiremo tutti quanti insieme a giocare e a parlare dal vivo. Detto questo ragazzi lasciate un bel mi piace a questo video che mi aiutate a capire se ovviamente il video vi è piaciuto o meno, iscrivetevi al canale che siamo vicini ai 100.000 iscritti, e noi ragazzi ci vediamo al video, bye bye! Vediamo, mo' provo ad andare sul tetto della casa, vediamo se magari lì ho un pochino più fortuna, anche se non è che sia chissà cosa, però provare non nasce. Capisco. Grazie che mi ha portato il bar, frate. Apprezzo molto questo gesto di... Questo gesto. Ok, non siamo ancora a Natale, però beh. Perchè sto a muare ragazzi? Ok, non siamo ancora a Natale, quindi siamo ancora a Natale, are you fucking kidding me it's a smg why don't you have the smg 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 fuck Sì, no, raga, sti cavoli dell'SMG. C'era il barret, quindi meglio il barret. Giro senza, non importa. Andiamo a vedere un po' come è la situation. Circa 2200 euro costa il mio computer, mamma, pina. Allora, ok. Cazzo, i grappler, non posso lasciarli. Ok. Compensate. Vediamo la scildona. Ok. Sì Grazie. 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 A spider merda. Che scappi scusa. Oh mia boy. Grazie. 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 Ci arriva l'utile che ha per prendere il coso? Sì, ci arrivo dai. No problem. No, no, please no! What? You fucking kidding me, brother. Volare. Oh 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 oh. No! No. 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 Questo però non era close. Questo era proprio easy hit, baby. La fight. Il problema è che qua ci sta quello che si sta curando, sicuro. Si deve per forza curare. Mi ha raffreddato pesantemente. Fatti. 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 Grazie.